Bella ragazzi sono Pulsar, benvenuti in un nuovo video, Mezzinverno è qui, è tornato il nostro rifugio di Mezzinverno su Fortnite con tutti i regali, 14 regali per noi, tra cui 2 skin gratuite ragazzi. Attenzione spoiler alert, in questo video vedremo tutti e 14 regali, lo faccio in modo tale che possiate pianificare la vostra apertura, aprire prima quello che vi piace, quindi fate attenzione se volete la sorpresa, non andate a vedere questo video, andate a vederne un altro mio, questo che sta apparendo qua sopra, ad esempio la mia Road to Champion, ricordatevi che siete sul posto giusto se volete novità, gameplay e migliorare su Fortnite, oltre a ogni tanto un po' di impostazioni per massimizzare le prestazioni, quindi prima di vedere i regali non dimenticatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e venirmi a trovare i live martedì e giovedì alle 15, proprio qua sul canale YouTube. Andiamo subito al video. Ed eccoci qua, come dicevo abbiamo 14 regali, sono divisi in due sezioni, una è qua e una è qua, poi diciamo che ce n'è anche una terza dove c'è il nostro goof qua, ed è la seconda skin. La prima skin è questo, ma come regalo lo potremo aprire solo per ultimo, ed è questa skin qua sopra, mentre quando avremo già aperto questo potremo aprire anche per ultimissimo il goof, che è quest'ultimo regalo qua, che adesso ci manda via perché sta dormendo, e ci darà questa skin qua. Vedendo invece i regali normali, partiamo da sinistra, questo è probabilmente uno dei più interessanti regali minori, perché ci dà questo piccone che si chiama Sledge Cracker, e a mio avviso è molto carino e per chi ha il Crackshot può essere un'addizione interessante. Il secondo regalo che andiamo a vedere è questo qua, grande, dietro, e contiene un glider, questo glider qua, ma abbastanza carino. Il terzo regalo è questo qua, in basso a sinistra, e contiene degli spray, quindi probabilmente conviene tenerlo tra gli ultimi. Il quarto regalo, che è questo qua, che ho già aperto, non ci possiamo tornare dentro, ma è un emote, questa qua che vediamo anche qua dietro, dove sostanzialmente siamo sopra questa lama slitta. Andando avanti, il quinto regalo, anche questo poco interessante, è questo qua, blu, allungato, ed è un emoticon. Sesto regalo, questo qua, grande, rosso, contiene invece una mimetica, molto carina, eccola qua. Settimo regalo, invece l'ultimo da questo lato, è questo, che ci lascia intendere già cosa c'è dentro, infatti c'è dentro un disco che contiene una canzone. Per l'ottavo regalo, andiamo dall'altro lato, questo qua, in basso a sinistra, contiene una scia, ribbon trail. Nono regalo è questo qua dietro, allungato, e contiene un glider, e voglio proprio aprirlo davanti a voi. Eccolo qua, visto che era il mio secondo giorno, volevo prendere il glider, eccolo qui, lo equipaggiamo. Andando avanti, abbiamo quest'altro regalo, alto e rosso, che contiene una mimetica, carina. Siamo quasi arrivati alla fine, abbiamo questo regalo, grigio, blu e molto alto, che a dispetto della confezione, contiene uno zaino, a forma di lama argentato. Dodicesimo e ultimo regalo, invece, questo qua, viola, che contiene altri due cd, altre due canzoni. Ovviamente, come vi dicevo all'inizio, aperti tutti questi, potremo andare al tredicesimo, che è questo qua, ed è una skin, e successivamente all'ultimo e al quattordicesimo, che è la nostra skin di Goof, che ci manda via in questo momento. Se questo video ti è tornato utile, ricordati di iscriverti al canale e valuta di utilizzare il codice creatore PULSAR-GAMING per sostenermi al massimo nello shop dei forni. Per vedere la mia scalata alla Lega Campioni, clicca qua sopra, invece, dall'altra parte, puoi vedere un video su come massimizzare le prestazioni in questo capitolo 4, nell'impostazione di forni. Da PULSAR è tutto, ciao ragazzi, bella!